E il gruppo delle mamme, sono Cammella, mamma di Sandino, scusate per disturbo, ma qua stiamo facendo il compito di geografia, disegna la frangia. Ma la frangia di chi, scusate? No, perché io non gelono, ma la faccio fare da almeno 5 anni, perché mi suda la fronte, mi dà fastidio. Ma voi ce l'avete la frangia? Casomai mandate una foto, mamma, e così il bambino mi può fare il compito. Grazie. Sengla, mamma, è tardi, passami la forbice, ma... Avanti, forza, guarda e disegna la frangia.